Paura la scorsa notte in questo caldo sabato d'agosto a Torri di Quartesolo. L'alba stava per spuntare quando in via Lanceri è scoppiato un violento incendio in questo appartamento al primo piano dello stabile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Spente le fiamme, tutto l'edificio è stato messo in sicurezza, 4 ore di duro lavoro, tanti danni ma nessun ferito. Non era in casa la proprietaria, una donna di 42 anni. I carabinieri che stanno conducendo le indagini escludono per ora l'ipotesi di dollo.